Buongiorno da Edo, iniziamo la settimana con due notizie su Amazon, ma non Amazon, la nostra Amazon, quella che ha portato il serverless nelle case degli italiani, no, Amazon, quella che ha portato Eco nelle case degli italiani. Sono due notizie, una brutta e una bella, ma ci teniamo così lo zucchero in fondo. Allora, quella brutta è che si è scoperto che negli Stati Uniti, nel 2022, Amazon ha consegnato, almeno per 11 volte, le registrazioni di Eco e anche di Ring, che è il campanello digitale, no, che registra le immagini dei campanelli, che inizia ad essere abbastanza diffuso, soprattutto negli Stati Uniti, bene, ha condiviso queste informazioni, audio e video, con le autorità in 11 casi, questo è emerso dall'interrogazione di un senatore. E, naturalmente, si è poi scavato un po' per scoprire come funziona questo procedimento di ottenimento di queste informazioni da parte dell'autorità, si è scoperto che in realtà è estremamente semplice, cioè esiste un form online per andare a fare una richiesta di queste informazioni, form online che tranquillamente posso fare vedere, perché eccolo qua, questo è il montaggio analogico. Questo è il form in cui le forze dell'ordine possono andare a loggarsi per richiedere informazioni, però possono anche fare una richiesta di emergenza. Eccola qua, con una bella richiesta di emergenza, tra cui tra l'altro c'è anche l'Italia, nei paesi in cui si può richiedere. Naturalmente, attenzione, questa cosa è molto controllata, non passeranno richieste strane, però è tutto demandato alla buona fede di chi compila questo form e alla lucidità e attenzione di chi poi va a valutare, perché sono degli esseri umani alla fine che vanno a valutare queste informazioni, e poi decidere se consegnare effettivamente i dati nelle mani delle forze dell'ordine, speriamo, che fanno questa richiesta. Questa, diciamo, è la prima notizia un po' frizzantina. Non buono, perché soprattutto nei termini e condizioni di quando noi acquistiamo questi servizi, non è specificato che queste informazioni possano essere condivise in modo così semplice e veloce e facile alle forze dell'ordine in caso di una richiesta di questo tipo, e poi non sappiamo quante volte è successo. Sappiamo del 11 caso negli Stati Uniti nel 2022, grazie a questa interrogazione del senatore, non sappiamo però quante richieste sono state fatte e poi non sappiamo cosa invece è avvenuto negli altri anni. Chiudiamo però con una nota un pochino più interessante, più positiva, e cioè il fatto che Amazon nel suo processo di trasformazione in una società green ha anche avviato un programma di smaltimento dei rifiuti. È possibile andare a fare una richiesta di ritiro dei rifiuti elettronici, per cui Amazon poi si impegna a smaltirli, riciclarli eccetera. Questa cosa è venuta fuori di recente negli Stati Uniti, dove è possibile andare a portare i propri vecchi apparecchi elettronici di piccola taglia direttamente ad Amazon, ma a quanto pare la cosa è presente anche in Italia. Io quantomeno non lo sapevo, però se andate nella pagina del riciclo di Amazon, oltre ad alcune informazioni su come andare a smaltire correttamente le apparecchietture elettroniche, c'è anche un form con una richiesta di ritiro da parte di Landbell Group, che io non ho provato, però se andate a cliccare su questo form, c'è la possibilità di richiedere la richiesta di un ritiro di apparecchietture elettroniche da parte di Amazon. Io non lo sapevo, questa cosa magari torna anche utile a qualcuno, comunque è una cosa carina che mi andava di segnalare, quindi chiudiamo almeno con qualcosa di positivo. Buona settimana, buona giornata, ciao!